Ormai manca solo l'ufficialità, ma Domenico Fracchiola può già considerarsi il nuovo direttore generale della Virtus Francavilla. Il dirigente si è appena liberato dall'Eco, club del girone A di Serie C, col quale ha vissuto due anni da assoluto protagonista culminati con il quinto posto in classifica, frutto di una stagione contrassegnata da valorizzazione dei giovani e riscoperte di calciatori bisognosi di riscatto. Ed è stato proprio questo, convincere il presidente della Virtus Antonio Magri a richiamarlo dopo l'esperienza in bianco-azzurro di tre stagioni fa che portò comunque il Francavilla a realizzare diverse plusvalenze. Rispetto ad allora però, Fracchiola è cresciuto e tanto sia sul piano caratteriale che professionale. La chiamata di Antonio Magri ha cancellato praticamente da subito le avanze del Monopoli che pure puntava con forza sul dirigente. Ora si può iniziare a programmare il futuro, resterà a Francavilla anche il direttore generale Angelo Antonazzo, probabilmente con una nuova mansione che con Fracchiola ha sempre avuto un rapporto molto molto stretto. Una volta chiusa la squadra mercato si potrà pensare all'allenatore Roberto Taurino come noto e in scadenza di contratto. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro con la dirigenza per discutere anche del suo futuro.